Elia Suleiman? Tabule, buona serata e benvenuto a casa sua. Nazareth si arrende senza condizioni all'esercito di Israele. Tutti i combattenti dovranno essere immediatamente consegnati all'esercito di Israele. Tutte le armi e le munizioni dovranno essere immediatamente consegnate all'esercito di Israele. What, Suleiman? Polvere da sparo, era di là, nascosta sotto al letto. Ma è simula. Chi ti ha detto che l'America è colonialista? Lo hanno denunciato a 24 ore per lasciare il paese. Chi ti ha detto che l'America è imperialista? Eh?